Il nuovo BD-Nano, la soluzione più efficace e più efficace di batteria. Questo è come Secopp presenta il BD-Nano. Potete presentare questo nuovo compresso? Si, Secopp ha 40 anni di esperienza in compresso per applicazioni commerciali e mobile, e ha più di 20 anni specificamente nel segmento mobile. Iniziamo da questa serie PLBD che è più di 20 anni, che è ancora riuscita, e anche da un microcompressor, che è più piccolo che il precedente. Secopp è diventato il grande servizio per la refrigerazione di mobile. Questo significa applicazioni di carro, refrigeratori di carro, veicoli di ricerca, soluzioni di mercato, e soluzioni di applicazioni. Quindi tutto questo tipo di equipaggi di refrigerazione. E poi il nuovo BD-Nano. Questo è il risultato di una lunga ricerca. È un prodotto molto miniaturizzato. Questo è 1.5 kg, mentre il Big Brother è 4.5 kg. ed è un prodotto. Questo è il risultato. Questo è il risultato della necessità del mercato in termini di una soluzione per la refrigerazione mobile. in termini di refrigerazione. Quali sono gli altri benefici, inoltre il peso e il peso? Il nuovo BD-Nano contiene molta innovazione. Le parti interni sono specialmente designate, quindi c'è un nuovo motor, un nuovo sistema di lubricazione, un nuovo muffler. quindi tutto ciò che c'è dentro ciò che c'è dentro ciò che ha garantito un elevato livello di efficienza, di noizia e di vibrazione all'interno della categoria del prodotto. E non è solo la comprensione e le meccaniche, la miniaturizzazione delle meccaniche, ma è anche l'elettronica. Questa nuova elettronica ha prodotto modelli che sono specialmente designate per il più alto standard in termini di performanze automotivi e anche in termini di interferenza elettronica elettronica. Questo prodotto ha il più alto livello in applicazioni automotivi come car, tratti e altre mobile applicazioni e anche molto importante nel medico per alcune applicazioni dedicati al segmento medico.